Il precariato che vivono i giovani d'oggi viene raccontato molto bene da Massimo Venier nel film Commedia Generazione 1000 Euro, con un bel castro d'attori, Alessandro Tiberi, Valentina Lodovini, Carolina Crescentini, Paolo Villaggio e Francesco Mandelli. La parola al regista Massimo Venier, che ha nel suo passato una collaborazione cinematografica importante con Aldo Giovanni e Giacomo. La cosa che mi premeva di più provare a raccontare è proprio la perdita della fiducia che a 30 anni secondo me bisognerebbe essere, bisogna essere, è l'età in cui si è pieni di energia, di voglia di costruire qualcosa, anche di far fuori quegli altri, non so come dire. Io credo che sia doveroso, giusto e bello, ma senza entusiasmo, senza fiducia non si può. E a me la cosa che mi spiace di più è vedere la scorza di quasi cinismo, che è una cosa che di solito viene verso i 45 anni, che invece c'è già nei ragazzi che hanno addirittura meno di 30 anni, la disillusione. E questa è la cosa che un po' mi piaceva provare a raccontare, cercando però anche di essere divertenti e piacevoli.